Nelle nostre strade sono molti quelli che hanno uno scarso senso di responsabilità alla guida e non si rendono conto delle conseguenze anche gravi della loro disattenzione, causata spesso dal cellulare o della loro sregolatezza. Per questo è fondamentale l'azione educativa del personale della Polizia Stradale e Ferroviaria che Papa Francesco ha incontrato in Vaticano. Uomini e donne in prima linea per contrastare il malcostume dilagante sulle due e quattro ruote. Ciò è causato da una fretta e da una competitività assunte a stile di vita che fanno degli altri conducenti come degli ostacoli o degli avversari da superare trasformando le strade in piste di Formula 1 e la linea del semaforo nella partenza di un gran premio. In un simile contesto, a incrementare la sicurezza non bastano le sanzioni, ma è necessaria un'azione educativa che dia maggiore consapevolezza delle responsabilità che si hanno nei confronti di chi viaggia accanto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.